Trapani è una squadra forte, una squadra che gioca in casa, sicuramente proverà a imporre la loro pallacanestro. Noi dovremo essere bravi a cercare di resistere i loro attacchi e cercare di contraattaccare in maniera efficace provando a fare le nostre cose. Sicuramente mettere energia dal primo al 40esio minuto provando a imporre la nostra pallacanestra in un campo avversario, fuori casa, dove abbiamo avuto due sconfitte e quindi è una prova di maturità per tutti noi. Sicuramente siamo molto consapevoli del fatto che dobbiamo provare a fare una buona partita, siccome a Barcellona per quasi 25-30 minuti non siamo stati all'altezza di quello che ci proponeva il campo, dobbiamo mettere energia. Questa settimana abbiamo lavorato in maniera dura e sicuramente a Trapani dovremmo entrare concentrati subito in campo e provando a mettere subito energia e provando a non ricommettere questi errori che abbiamo commesso nella partita di Barcellona.